Edoardo Goldaniga ha scontato alla squalifica, torna a disposizione, una lunga preparazione per una grande sfida. Sì, abbiamo queste due settimane di riposo che ci permettono di lavorare al meglio col mister e assemblare tutti i movimenti possibili per andare a fare la partita che sarà molto importante per noi. Contro la Sanità è una sconfitta forse immeritata, il Pisa ha disputato una gara importante. Io l'ho vista domenica e sicuramente il pareggio era il risultato più giusto, però loro comunque sono una squadra attrezzata e sapevamo della loro forza, soprattutto in casa. Però noi credo che abbiamo fatto la nostra partita, peccato per il risultato perché sicuramente qualche punto ci serviva a questo fine di campionato.